L'odierna edizione della gazzetta dello sport dà le indicazioni ben precise su quello che sarà il futuro di alcuni giocatori della juventus idee precise secondo max allegri riferimento ad alcuni giocatori allegri avrebbe deciso chi rimane e chi no chi ha la possibilità di rimanere in prima squadra e chi invece deve partire per fare esperienza pure per essere ricevuto a livello definitivo la juventus infatti punta molto su alcuni giovani ma evidentemente c'è chi ha un percorso di crescita di un certo tipo chi ha bisogno di crescere altrove insomma la gazzetta dà un'idea assolutamente chiara di quello che sarà il futuro di alcuni giocatori e ci sono delle decisioni assolutamente clamorose lasciatemelo dire in riferimento a questa situazione e quindi andiamola a scoprire prima di cominciare come al solito vi ricordo di supportarci quindi mi raccomando iscriviti al canale se ancora avete fatto attivate la campanella e inoltre vi ricordo di onefootball qui sotto in descrizione vi lascio il link per poter scaricare in maniera del tutto gratuita un'app che vi dà delle informazioni assolutamente complete e vi dà la possibilità in maniera del tutto gratuita di essere super aggiornati su tutto il mondo del calcio potete personalizzarla come volete quindi mi raccomando qui sotto in descrizione vi lascio il link diretto per scaricarlo è gratuita e la potete scaricare in qualsiasi momento quindi mi raccomando scaricate onefootball e allora andiamo alla notizia perché la juventus ha individuato nell'under 23 un settore molto interessante da cui poter attingere da cui poter prendere alcuni giocatori e portarli direttamente in prima squadra secondo la gazzetta dello sport max leger avrebbe deciso avrebbe stipulato un patto evidentemente con la società alcuni giocatori sono andati in prestito altri possono rimanere altri sono al livello della prima squadra e quindi possono rimanere per rappresentare elementi importanti della prima rosa se non ha potuto attingere chissà quanto dal mercato allegri però può farlo dall'under 23 con alcuni giocatori che possono essere considerati da prima squadra quindi la gazzetta fa un identikit e va a analizzare nome per nome i giocatori che rimarranno giocatori che invece dovranno partire e ci sono delle delle sorprese assolute ci sono delle decisioni assolutamente incredibili lasciatemelo dire e partirei dalla prima la più incredibile la più inaspettata perché dopo la cessione di demirale all'atalanta tutti ci aspettavamo e indicazione chiara era questa la permanenza di dragosin un dragosin che doveva rimanere un dragosin che doveva rappresentare il quinto elemento della difesa di juventina alternandosi con rugani sì perché l'idea era quella di mantenere chiellini bonucci ed elict come perni di questa difesa come perni al centro di un progetto che deve vedere la solidità difensiva di nuovo protagonista una solidità difensiva che ha fatto grande l'esperienza di max allegra i ventus un'esperienza che ha visto la coppia bonucci chiellini come fondamento di qualsiasi squadra anzi il trio in realtà prima c'era anche barzaghi ora barzaghi viene sostituito di fatto da delict che viene allenato per la prima volta da allegri e che diventerà ancora più forte secondo me con l'esperienza di allegri e quindi il quarto e il quinto non gli elementi di contorno secondo max allegra quindi va bene vendere demirale perché bisogna fare un po di plus valenza però rimane rugani che come quarto elemento può andare bene e facciamo crescere nel frattempo tra gusin attenzione perché secondo la gazzetta dello sport è cambiato qualcosa perché secondo la gazzetta dello sport allegri avrebbe dato il sì alla possibile partenza di dragusin va mandato in prestito perché secondo allegri ha bisogno ancora di crescere non è ancora pronto al 100 per cento a metà agosto ha raggiunto questa consapevolezza e ci sono delle squadre pronte a fare diciamo a investire su di lui e per investire non intendiamo investire delle cifre per l'acquisto a titolo definitivo ma evidentemente la juventus lo manda in prestito perché perché la giurata di oggi di lunedì è previsto un incontro con il cagliari il cagliari ha chiesto informazione alla juventus per il possibile prestito secco quindi parliamo di prestito secco di dragusin che potrebbe diventare un nuovo difensore del cagliari un nuovo giocatore che può andare a al cagliari e a fare la cosiddetta gavetta attenzione perché oggi c'è l'incontro col cagliari secondo la gazzetta dello sport ma possibilmente la juventus vuole mantenere l'italia ma attenzione perché c'è qualche club e la bondesliga che si è interessato sul giocatore la juventus però le idee chiare punta sul ragazzo ma ha bisogno di crescere allegri ha capito che nel ragazzo c'è della qualità perché è un ragazzo molto intelligente molto utile ma allo stesso tempo è molto giovane e allegri quando si tratta di difesa non vuole rischiare ed è per questo che spera di poter mandare in prestito appunto dragusin e riaverlo magari tra uno due anni possibilmente uno spero pronto avendo fatto la giusta cavetta in serie a magari proprio al cagliari quindi questo è il primo il primo colpo in uscita che non ci aspettavamo perché evidentemente qualcosa che inaspettato e voi mi direte quindi ora chi è il quinto il quinto a sorpresa sarà appunto de winter perché secondo la gazzetta dello sport sarà proprio il giovane difensore dell'under 23 proprio de winter a rimanere come quinto allegri ha deciso di tenere lui come quinto e dargli una chance in prima squadra e questo è assolutamente incredibile perché avevamo dato per scontato che fosse dragusin il quinto nuovo dell'under 23 che dal direttamente under 23 passa in prima squadra invece dragusin non sarà il quinto ma sarà appunto de winter ed è una scelta abbastanza strana ci sta l'idea di farlo crescere però forse perché magari c'eravamo tutti un po' innamorati di dragusin e forse perché l'idea di avere una coppia una difesa formata da dragusin de miral e dell'ict poteva affascinare soprattutto in prospettiva la juventus invece così non sarà perché eventos in un colpo solo ha venduto l'anno scorso romero quest'anno vende de miral e vende anche però in prestito attenzione da usin un po' una doccia fretta secondo me per i tifosi la juventus che speravano invece avere una difesa molto più giovane che invece dovranno ancora puntare molto su bonucci e chiellini andiamo avanti perché la gazzetta dello sport fa un'analisi molto approfondita in tema under 23 quindi analizza anche quelli che sono i centrocampisti che potranno rimanere invece quelli che dovranno partire partiamo da fagioli nicolo fagioli anche lui sembrava poter essere un elemento importante per la cabina di regia juventina così non sarà perché anche per ciò riguarda fagioli nicolo fagioli max allegri ha deciso che non è ancora pronta ha deciso che ancora bisogno di esperienza max allegri vuole già abbastanza pronti ed è per questo che l'ipotesi parma potrebbe essere la più accreditata anche per il regista bianconero e ricordiamoci che a parma è dato un altro talento dell'under 23 felix correa vi abbiamo parlato dell'ufficialità proprio qualche giorno fa abbiamo parlato avevamo anticipato il giorno prima il giorno dopo è arrivata l'ufficialità un'ufficialità che aveva sperimentati tipo sei bianconeri e anche qui vorrei soffermarvi un attimo perché perché se era parlato di una diritto di riscatto nei confronti del parma e molti già sui social si sono lamentati ecco felix correa l'ennesimo giocatore che viene riscattato un'altra squadra l'eventus ci perde in realtà non ci perde neanche perché un diritto di riscatto fissato a 7 milioni euro nei confronti del parma quindi è prestito secco quello di quest'anno con diritto di riscatto fissato l'anno prossimo per 7 milioni quindi il parma lo potrà riscattare effettivamente ma nel contratto è inserita un contro riscatto un contro riscatto che consente a juventus di poterlo riacquistare sapete a quanto a 8 milioni di euro quindi praticamente a juventus quando dovesse riscattarlo il parma lo ricomprerebbe a 8 milioni quindi di fatto dovrebbe aggiungere un solo milione per poterlo solo riprendere nel frattempo però il giocatore potrebbe aver acquisito due anni di maturazione potrebbero essere questi necessari per poterlo poi vedere a juventus da grande giocatore quindi dopo felicitorea anche fagioli potrebbe raggiungere il giocatore ex juve ormai e poi finiamo con ranocchia altro giocatore molto interessante l'under 23 che ha fatto un buonissimo precampionato con la juventus e tutti si aspettavano un grande precampionato da fagioli che in qualche modo potesse diciamo convincere allegri in realtà è arrivato da ranocchia ma secondo la gazzetta dello sport anche per lui non è ancora tempo di prima squadra anche per lui è necessario un periodo di adattamento anche per lui è necessario un periodo di prestito che gli può consentire di mettere minuti nelle gambe per poi poter magari diventare un giocatore a juventus il prossimo anno infatti secondo la gazzetta dello sport il futuro è altrove e quindi si parla di vicenza crotone o alessandria squadre che hanno chiesto informazioni sul ragazzo e che potrebbero diventare appunto le nuove squadre del giovane centrocampista dell'under 23 quindi anche in questo caso si parlerebbe di prestito secco o eventualmente diritto di riscatto con contro riscatto quindi l'idea della juventus è comunque farli crescere farli naturale farli diventare grandi altrove per poi riaverli in per poi riaverli in prima squadra quindi questa situazione attuale in casa juventus per ciò che riguarda i giovani giovani che quindi con le probabilità partiranno quasi tutti a parte del winter che rappresenterà secondo la gazzetta dello sport e secondo l'indicazione data alla rosia come quinto elemento della nuova juventus di max allegri che punterà ancora forti sui giovani ma è un processo quello importante in casa juve dei giovani che non riguarda solo l'immediato solo la prossima stagione ma anche le prossime stagioni e quindi staremo a vedere intanto vi chiedo cosa ne pensate e quindi secondo voi se avendo so fa bene questo queste scelte sono giuste ricordiamoci che quando si parla di giovani non si parla solo di questi giovani di quelli che abbiamo appena citato quindi felice correa ranocchia fra gioli dragus in the winter in casa juve ce ne sono altri stiamo parlando di kuruseski classe 2000 stiamo parlando di kyle jorge stiamo parlando di arthur anche lui giovanissimo parliamo di delict parliamo di tanti e tanti giocatori eventos ai rosa molto giovani quindi prendiamoci conto che l'eventus quando pensiamo alla juventus pensiamo a juventus che sta facendo un grossissimo lavoro sui giovani e quindi c'è anche da pazientare con l'ore c'è anche da farli crescere aspettare il momento giusto e da questo punto di vista credo che allegri possa essere un buon allenatore sotto questo punto di vista ditemi la vostra quindi sotto nei commenti fatemi sapere secondo me intanto se giusta questa scelta cioè di mandare dragus in a sorpresa a proprio in prestito e invece mantenere come quinto the winter giocatore che potrebbe anche giocare come terzino alle volte terzino destro e all'occorrenza potrebbe essere utilizzato lì da max allegri ditemi la vostra qui sotto nei commenti